Nel nord Renovestfalia, in Germania, un tir ha perso il controllo rovesciando sulla strada tre container di alluminio liquido innescando un incendio. Il conducente del mezzo è rimasto lievemente ferito, l'autostrada A1 è stata interamente chiusa al traffico per diverse ore e la tratta in direzione di Brema verso sud è stata riaperta nel tardo pomeriggio.